Per il terzo anno consecutivo Palermo torna ad essere protagonista del motorismo sportivo vintage con la terza edizione della Monte Pellegrino Historics in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2015. Abbiamo iniziato nel 2012, è quasi per caso, perché il proprietario della macchina con la quale Tazio Nuvolari ha corso la sua ultima gara, che è stata proprio la Palermo Monte Pellegrino nel 1950, ha portato qua a Palermo dall'Argentina la sua macchina, prima di farle fare mille miglia e altre gare importanti storiche in Italia. Da lì è nata l'idea di fare una rievocazione storica e oggi siamo arrivati nel 2015 alla Monte Pellegrino Historics. Abbiamo partecipanti che vengono da tutte le parti d'Europa, avremo il nostro amico argentino che nuovamente viene dall'Argentina portando una splendida CIS Italia 202, ma avremo partecipanti che vengono alla Germania con Porsche 910, Alfa Romeo 33, Coda Lunga, insomma abbiamo macchine di grandissimo spessore che sicuramente chi ha i capelli bianchi ricorderà perché stiamo parlando di macchine degli anni 60-70. La Kermesse di automobilismo storico è organizzata dalla Scuderia Monte Pellegrino e percorrerà importanti appuntamenti come la Pergusa Historics e il circuito del Real Parco della Favorita. Abbiamo organizzato delle bisarche dove le macchine saliranno, dobbiamo movimentare macchine da corsa, e in Bisarca faranno il tragitto, ahimè che è Palermo, Agrigento, Agrigento, Caltanistetta per raggiungere Pergusa, ma si va avanti contro i dei dispettosi, contro l'inefficienza purtroppo di una regione che poi in questi momenti si vede e i cittadini piangono le colpe di chi ha amministrato, si va avanti lo stesso.